Ecco, stiamo per entrare nella Settimana Santa e ci viene proprio da Gesù questa espressione forte, questo atteggiamento così chiaro, limpido, un'unità forte con il Padre. Non si possono affrontare le prove della vita se non siamo uniti fortemente a Dio, se non ci uniamo fortemente a Lui con la preghiera. È un grande insegnamento che riceviamo anche per le nostre prove, le prove che noi viviamo quotidianamente nella nostra vita. Non è tempo di lamentarsi o quantomeno quando ci accorgiamo che stiamo per lamentarci è il momento anche di trasformare quel lamento in preghiera e dire Signore io voglio rimanere fortemente unito a Te perché solo con Te questa prova può assolutamente assumere tutto il significato ecco di prova della mia fede, prova di quanto io Ti ami. E allora comprendiamo bene anche la parola del salmista. Ti amo Signore, mia forza, Tu sei la mia forza, Tu sei la mia fortezza, sei il mio coraggio. Io voglio unirmi fortemente a Te, solo con Te posso affrontare questo momento. Ecco Gesù sta per iniziare la sua prova e lo fa e lo potrà fare solo perché ritrova fortemente questa unità, questa unione con il Padre.